Spaccio di droga, 45enne arrestato in centro città nei pressi della stazione ferroviaria di Comolago. Tutto è iniziato da un controllo ieri mattina da parte dei poliziotti della squadra volante della questura di Como ad un 43enne residente a Pognana Lario, già noto alle forze dell'ordine. Dalle verifiche non è emerso nulla, perciò è stato lasciato andare. I poliziotti però hanno continuato a monitorare i suoi spostamenti fino a quando, poche decine di minuti dopo, lo hanno visto salire su un taxi assieme ad un'altra persona. La polizia ha quindi deciso di bloccare il taxi e identificare anche il secondo uomo, risultato essere un 45enne, anche lui residente a Pognana Lario e cognato del primo. Gli agenti hanno notato subito un certo nervosismo e infatti è stato trovato in possesso di un pacchetto con all'interno 40 grammi di eroina. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in questura. La perquisizione poi nella sua abitazione di Pognana Lario, con l'ausilio di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, ha permesso di trovare e sequestrare nella cameretta del figlio 21enne 11 grammi di hashish che il ragazzo ha poi dichiarato di utilizzare per uso personale. Il giovane è stato sanzionato amministrativamente. In un mobile della cucina trovati inoltre due bilancini elettronici di precisione, ancora sporchi di eroina, probabilmente utilizzati per la pesatura della droga. Grazie. 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 Grazie.